Ciao. Come si chiama questa esatta? Questa è Maria Cecconi. Ecco, Tenì. Io tu sei piccola, lontana. Ma che fai? Ah, ora spegnere i cantieri, è vero. E che fai? Beh, aiutiamo. E che fai? Vieni, c'hai tanto fiato a casa, vincellano. Ma mi fai stammare. Ehi, ma insomma. Veramente, c'è facile. Vabbè? Ma siete? La vorrei dire? Chi l'ha portata, Gloria? Io no. Forse lui, a Novanzi, ne sapevo... Ma questo, l'hai portata dentro? Non proprio, io l'ho portata. Io l'ho soltanto indirizzata, perché la madre mi ha chiesto... Ah, ma c'è la poesia. Beh, qui là, dici bene, lo so. Venezia... Venezia l'ultimo... Venezia l'ultimo è venuta, l'ultimo è venuta. Ma tu sei perduta. Molto in furia. Porti, mangi nel Ponte Svezio e mangiare la bianca. A Piagnimo ti sei messa? E perché ti sei messa a Piagnini, eh? Ti hanno divertito, sentimi. Eh... Forse, forse fai ridere. Eh... Ah... 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 Che c'ha di divertirsi? Che stanno a dire? Stanno a dimmare, stanno a… Ma perché si divertono tanto? perché che ci hanno da divertirsi ma è una nana non ne la faccio non ne la faccio ma quella non è una bambina è una nana nel 25 è stata a scuola con me è una nana nel 25 è stata a scuola con me è una nana nel 25 è stata a scuola con me è una nana nel 25 è stata a scuola con me per me è un provino contro proficcio ecco contro lui ce l'ho capito scusi se le dico il mio parere ma a me pare che sia una pellicola sprecata quest'ultimo provino io avrei capito immediatamente che la bambina veniva fuori in quel modo lì beh io già gli ho detto mi sembra se lei si chiama Novazio vero? lei ha fatto il soldato beh si alzi i piedi bene piangolo sinistro piangolo sinistro avanti marcio via fuori fuori se ne vada se ne vada perché ma Alberto ma se continui così è un disastro mi ti posso più far lavorare ma è inutile hai perduto pure il po' mi lascia che mi scusa fai peggio fai peggio sentiti per giusto una stupidaggine simile se rimette il lavoro io lascia che gli spieghi mi scuserai con lui fai peggio come fai peggio ma è una cosa simile vede Placetti avevo ragione abbiamo perso il tempo denaro e pellicola tempo denaro pellicola tanti un po' zitto e salute la salute l'abbiamo persa noi che sono due settimane che ci stiamo massacrando per trovare questa bambina nel suo interesse però hai c'era dire che abbiamo perso il denaro sentiti Filippo fammi piacere avete riso fino adesso lo dico io vai a vedere che succede là vai no lei mi fa passare signora lei mi fa passare non si può passare me lasci stare me lasci stare non mi mettere mai la sosta guardi signora si calmi perché tanto non c'è niente perché non ti può parlare con il reggista dove sta ma cosa gli vuol dire cosa gli voglio dire che ci avevate da ridere questa reggattina ma me non ci vuol dire dove sta il signor eccolo là signor Blasetti abbia pazienza me lasci stare me lasci stare scusi tanto signor Blasetti scusi tanto ma io stavo nascosta lassù in cabina dove fanno orte ho sentito ride tutte ste risate e che ci avevate da ride ma ve fa tanto ride sta ragazzina e guardate è una ragazzina come le altre ho sentito perfino di uno che è una nana ma che maniera è questa non ci avete rispetto dei sentimenti degli altri proprio non ci avete nessun rispetto dei sacrifici che uno fa ne ho fatti tanti signor Blasetti per comprare sto vestitino tutti sti sacrifici che io ho fatto sti tranquilla e quell'altro signor Annovazzi qua sta signor Annovazzi ha fatto bene lei è una persona che capisce ha fatto proprio bene è un'altra povera è un'altra povera è un'altra povera signor Blasetti abbia pazienza ma non mi va a dire così senza un po' di speranza ecco questa è una faccenda che la comuniamo noi vieni qua